In un territorio che avverte come sempre più urgente l'aumento di sicurezza di fronti a episodi di microcriminalità progressivamente più frequenti, arriva un deterrente in più nonché uno strumento di ulteriore tutela all'incolumità delle forze dell'ordine. Arriva infatti il taser in dotazione alla polizia e ai carabinieri della provincia, ovvero la pistola a impulsi elettrici capace di stordire e paralizzare per qualche secondo quei soggetti che poi i tutori dell'ordine andrebbero a bloccare con le manette. Il tutto senza procurare ulteriori conseguenze alla salute dopo la scossa elettrica. Un'arma a tutti gli effetti che esce dai film d'azione in cui si era abituati a vederla e a proda nella realtà locale. Da ieri è infatti in dotazione a polizia e carabinieri di Fano, dal 30 maggio arriverà a quelli di Pesero dal 6 giugno per i colleghi di Urbino. Una novità nel pesarese che non è però una novità a livello nazionale, dove il taser sta raggiungendo metà delle province dello stivale e la questura pesarese si sta adeguando. Sarà un'arma da gestire con corsi di formazione e protocolli ben precisi, dalle specifiche parti del corpo da colpire alle situazioni in cui va utilizzata, vale a dire come soluzione estrema in casi di aggressione a pubblico ufficiale.